Salve a tutti ragazzi, sono Wattombat con la seconda di questo nuovo episodio di Black Ops 3 Multi-Giocatore e adesso potete ricontinuare Allora, oggi continueremo ad allenarci con questa classe del WMP con la quale mi sto trovando davvero molto bene vedremo di migliorarci ulteriormente andiamo a fare desmatch a squadre non me la sento ancora le parti CT perché non... oh cazzo, random, ne un po' zombie non l'ha giocata, è un po' scarso ci sono più squadre in questa partita quindi sarà molto inter... culo sarà molto interessante questa partita, eh spero che sia in squadra con random perché mi ispiera a forza vediamo un po' visto battaglia minchia, un botto di punti, eh 162.000 uccisioni, è una roba incredibile più letale, spectre ripper che cazzo è sta roba azzardo? c'è un casino di decisioni anche con specialisti proprio varie, è davvero bravo maggior numero di vittoria del match a squadre sconfitte, serie 21 rapporto 1,76 non è neanche così alto come rapporto alla fine combine questa mappa devo dire che è bella e col WMP sicuramente potremmo giocarsela davvero bene dobbiamo sperare che non ci sia troppa gente nascosta per la merda come al solito dai sono davvero carico, ce la facciamo vediamo un po' come ci troviamo con la nuova mimetica spero di non confondermi poi vedremo anche se conviene mettere il mirino o robe simili allora perché tutti non vanno vanno di là e non in giù perché sanno che chi va di qua ci muore qui ce n'è uno sicuro qua eh non penso parte in prefuoco guarda che figlio di puttana eccolo là viene qua sicuro figlio di puttana ma sapeva già che ero qui guarda che merda parte a sparare ma madame quella roba mi fa troppo incazzare partire spiegare quei proiettili perché pensi che l'altro figlio di puttana ti arrivi in quel punto mi fa incazzare in maniera assurda dio merda non l'ho sentito come ho fatto in ascemi dietro non lo so mi sono pure appena nato Cristo bene merdoso come ha fatto che cazzo ma è un aimbot è un cazzo di aimbot ma l'avete visto c'è proprio il mirino si è attaccato come una calamita dio merda col pompa dai concentrati non voglio perderla di nuovo già quella della scorsa episodio l'ho persa quando mi sono impegnato un botto qui sto facendo meno sicuramente sarò anche negativo però sono forti questi guarda che cazzo abbiamo contro cazzo una una sessione lì una squadra della madonna avete visto che erano in squadra quei tipi no non riesco a mirare così lontano dio merda sono organizzati sono bravi no questa questa potrei anche uscire volendo è ovvio che la perdiamo non ci può proprio recuperare è impossibile sono sono davvero bravi qui porco il signore assist ma non mi faccio niente l'assist dobbiamo uccidere qua astardo quella merda di ripper arriva qua ora figlio di puttana non la scampi l'hanno ucciso ce n'è un altro però sicuro ne viene un altro pure da qua che cazzo ho detto maledetto bastardo di merda che non lo vedo più che ha rotti i coglioni in un modo incredibile vai affanculo che cazzo è si è bloccato il gioco merda è crashato perché l'ho ucciso con ripper ma come cazzo si fa ma vai affanculo ma vattene a fare in culo mi hai disconnesso perché l'ho ucciso con ripper vai affanculo madonna che merda mi fa incazzare ma è proprio ridicolo continuiamo perché non commento neanche andiamo avanti andiamo avanti andiamo avanti per cercare un'altra partita però questa cosa che ti disconnette per aver incazzato in un modo indescrivibile stavo anche quasi per recuperare qualche uccisione la stavo facendo è meglio però vabbè non possiamo farci niente gioco una merda allora non trovo nessuno quale motivo no proprio non cerca niente secondo me c'è qualche esincronia particolare un steam che fa schifo ho trovato dai vediamo un po' di portare in positivo questa partita perché è già iniziata andiamo a passare sempre quella di prima noi siamo tutti con il ripper quindi vantaggio dovremmo avercelo macchina della guerra mi fa schifo minchia ma quanto stiamo perdendo ma dai ma proprio nelle merda mi devi mettere però in realtà sono poche uccisioni perché abbiamo iniziato troppo ma dove cazzo no cristo ma vaffanculo dio merda quello d'oro non lo vedevo mitizzato con il metallo lì della porta della parete o quel che era questo giallo di merda mi ha tirato una sprangata madonna nei denti no anche questa è irrecuperabile non sono troppo bravi questi però un desilivello che no vabbè questa questa l'ho fatta cagare io un desilivello un po' troppo grande per essere pareggiato diciamo che l'abilità della squadra penso sia più pari abbastanza no ho fatto una cazzata ad andare qua perché sono andato qua ora ci muoio sicuro c'è uno che mi cecchina guardate che ho sprecato di brutto questo no ma vaffanculo ti segui che palle l'ho visto all'ultimo l'ho soldato via però ti segui non non mi ricordavo ma vaffanculo va colpo di pompa coltellata morti questo è negativo di brutto però 0-20 di rapporto non ho ucciso nessuno mi pare ancora ma vaffanculo ma quanti colpi l'ho dato questo qui fa così vado non andiamo a uscire tutti 65 se noi siamo ancora quanti cazzo ne ho uccisi 5 beh vabbè no non si può proprio vincere guarda che micchia che dislivello di merda 0-29 ci ho zaccato no vai affanculo vai non roppare i coglioni si vabbè non si può fare niente non hai non hai azione qua possibilità di azione qui ce n'è uno anche due mi sa 30 vai affanculo era quel no 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 mori dove cazzo è no ma vaffanculo ma ma perché mi fa segno lì che ce la si ritorno di fiamma di merda no non colpire me dio merda che palle la finiamo a meno di 40 mi sa una no 40 la gente che abbandona nascosti sulla scala sono sicuro dietro di me ma vaffanculo ma come cazzo si fa questa merda che ci mette due ora girarsi non si riuscite a ucciderlo vaffanculo perché questa gente si nasconde non riesco proprio a capire gg cosa hai giocato contro una squadra di merda per forza guantarsi lì per aver vinto contro una squadra del cazzo è proprio bello 042 doppia di quello che avevo detto quindi vabbè ci sta merda l'uccisione poi abbiamo fatto anche abbastanza pochi punti non è che abbiamo fatto tanto squadra nostra ovviamente una merda assurda cioè quello più più forte è negativo per farvi capire più forte quello che ha fatto ho avuto un modo di fare più uccisione sia forte non lo so vabbè peccato peccato dai facciamone ovviamente andiamo avanti andiamo a cercare di portare un po' di speranza in questo in questo episodio cambiamo sessione ovviamente perché questa è ingiocabile tanto non la bilanceranno mai è proprio scontato che non la bilanceranno mai quindi è meglio cambiare sessione calcio proviamo un po' a mettere il calcio che sicuramente ci serve più precisione andiamo a levare qualcosa però attenzione che leviamo che leviamo che leviamo questo che non ci serve una sega perfetto ora molto strano quest'arma qui ovviamente non ho i pezzi premium quindi andiamo avanti invece a squadre la prossima partita se mi fa male con il ripper rimetto il minigun fa male un po' il polso dai proviamo proviamo ora sta mappa ma vaffanculo l'avevo visto però cazzo non si può giocare così proprio i giocatori fanno schifo dovrebbero mettere che se fermo due secondi ti devono buttare fuori dalla partita ma vaffanculo vai a fare in culo sei fermo fuori dalla partita non entri mai più non entri più figlio di puttana non entri mai più no ai raps che cazzo è la gente subito che esce perché giustamente se mi mettono questo schifo che cazzo vuoi giocare diventa invisibile ma che cazzo vuol dire mi ammazzano no dai che schifo di partita del cazzo sì ma che cazzo è cosa tirano siamo in due perché tutti sono un po' di colino di giocare con queste cose di merda sì lo rompo ma tanto se io sono dall'altra parte della mappa si muoie raggio di una bomba atomica sta roba porco gesù ma quando si è girato quello ma quando no vaffanculo senti è ingiocabile davvero ingiocabile mi sa che sono anche l'ulti l'unico no è tanta gente vai possiamo recuperarla appena finiscono no è impossibile 1641 con tutte queste merda di specialità che loro continueranno a tirare perché si fanno le serie ovviamente con tutte queste schifo di uccisioni a culo sono proprio sbilanciate queste specialità di merda devono essere proprio rimosse non dovrebbero esistere fanno solo incazzare figlio figlio di troia di merda avuto culo perché avevo metà vita che spara a me quello vediamo uno di là e proviamo ad andare da dietro vediamo un po' se usciamo dovremmo riuscirci cazzo non ci ho capito niente figlio di troia zoccola di merda lo spaccava la teschima tirate cos'è c'è uno che sta facendo le serie quindi dovremmo farlo fuori là dentro gioco le palle invece no ah era fuori vabbè ho dato che era entrato dentro avete visto che è strisciato dentro la casa figlio di puttana sanno giocare solo così cazzo ma vaffanculo solo così sanno giocare fanno schifo che cazzo giocatori sono giochiamo a nascondino non giochiamo a call of duty no quella non è l'altra sono ovviamente io ormai vedendo il nascondino cazzo qua qualsiasi cosa si spaventi uno lì roccio di merda quello è scappato con la mazza di merda c'era il suo amico bastardo che giustamente le copriva il culo come cazzo a fare ma tanto c'era pure l'amico lì pronto cazzo a tirarmi la martellata in capo no non so come cazzo mi ha fatto sparare ma io nel dubbio me ne vado no volevo scappare non ce l'ho fatto 3 2 1 qui dovremmo averlo messo bene no bene mi speso tutti i cazzo di colpi in faccia io ma ho tante non è recuperabile pure questo dentro la casa si è suicidato dove cazzo sta non l'ho colpito non l'ho colpito neanche una volta come cazzo è possibile cosa no ha fatto il colpo cioè amiche ho ucciso due persone con lo stesso colpo che culo di merda uh ancora quella merda di arma via fuori dai coglioni bastardo dovevo darmi l'ultima uccisione 10-18 secondo la partita per farvi capire quanto cazzo abbiamo fatto pena anche qui sessione di merda perché quella più forte è negativo di rapporto uccisioni morti e questo metica d'oro che è davvero bella che vorrei avere non l'avrò mai perché ci vuole troppo l'ultima uccisione sono io minchè un colpo mi ha dato ah si perché ho fatto il scontro con quell'altro bastardo là vero giustamente boh non mi stupiscono cioè non mi dicono non è bilanciato come stiamo dovremmo fare SCT quindi il prossimo episodio faremo SCT che è già più bilanciato come sistema di combattimento perché qui con il loro metodo di raggruppamento squadre che è assolutamente assurdo ci fanno mettere squadre di merda così non ha senso e basterei quindi ragazzi per questo video ci siamo presi in un prossimo episodio per il primo è il multigiocatore dove giocheremo spero meglio comunque non è andata poi così male è un po' male è andata però avete visto benissimo quali erano i problemi delle squadre delle squadre che non erano bilanciate per un cazzo tutte le specie di merda che erano messe a cazzo pure quelle basta quindi ragazzi con questo video ci vediamo per il prossimo episodio ciao ciao Ciao